Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del nostro telegiornale dedicata ai controlli effettuati ieri dal sindaco Domenico Messinese e dalla Polizia Municipale presso il giardino comunale Giuseppe Garibaldi di Gela i giochi per i bambini non sarebbero sicuri, sono inoltre state rilevate altre criticità, sentiamo Sopra il luogo del sindaco Domenico Messinese alla villa Garibaldi del centro storico di Gela con contestuali accertamenti della Polizia Municipale sui giochi per bambini collocati dal gestore del chiosco al quale i vigili urbani hanno contestato varie irregolarità i giochi non sarebbero risultati sicuri e inoltre non tutto sarebbe in regola per quanto riguarda alcuni impianti elettrici e servizi igienici a sollecitare l'intervento dei vigili urbani era stato lo stesso primo cittadino Parco Giochi che di fatto è in custodia colui che ha una gestione a parte della villa è un controllo che ho voluto fare personalmente anche perché è stato dato mandato alla GELAS di verificare tutti i parchi gioco della città e di intervenire per poter ripristinare se ci sono qualche piccola carenza e in ogni caso se vi sono delle criticità di provvedere immediatamente o comunque in ogni caso di metterle in sicurezza è stata proprio una direttiva ben precisa di provvedere a una manutenzione periodica e soprattutto di avvolersi di ditte specializzate per poter fare gli interventi questo riguarda tutti i parchi che sono ancora sotto la gestione diretta del comune la GELAS ha già avviato a fare, ha compresato di fare tutti i sopralluoghi a breve interverrà per migliorare i parchi esistenti e a quanto pare dovremmo riuscire anche a migliorare un pochettino la situazione attuale questo vuol dire non fare spot ma programmare le cose in modo corretto per garantire quello che è giusto, ovvero sia la tutela dei nostri piccoli Gli anziani e i soggetti portatori di handicap residenti a GELAS possono presentare l'istanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST relative all'anno 2017 le domande corredate dalla documentazione previste devono essere presentate al protocollo generale del comune entro il prossimo 26 agosto il modello è disponibile negli uffici del segretariato sociale in Viale Mediterraneo si stacca dal filo un ombrello decorativo del corso principale di GELAS e colpisce al volto una donna è accaduto intorno alle 20 di ieri si infiamma così una polemica già nata all'indomani della installazione sentiamo continua incessante soprattutto sui social la polemica legata alla installazione degli ombrelli come elementi decorativi lungo il corso principale di GELAS continua soprattutto all'indomani di un episodio che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi uno degli ombrelli staccandosi dal filo è infatti precipitato colpendo al volto una giovane donna che è ricorsa alle cure del pronto soccorso del Vittorio Emanuele la reazione di indignazione dei passanti è stata immediata il racconto del consigliere comunale Giuseppe Ventura che proprio in quel momento stava percorrendo lo stesso tratto del corso in cui si è verificato l'episodio ho visto quello che noi temevamo che accadesse e poi è accaduto un ombrello è finito addosso ad una ragazza che si è fatta pure male è andata al pronto soccorso tra l'altro vicino l'occhio ma quello che è più grave è che accanto a pochi centimetri c'era un bimbo di pochi anni che ha rischiato che l'ombrello andasse a finire addosso al bimbo ma non solo, questo gruppo di persone che tra l'altro non erano di gelo ma erano di fuori, hanno inveito contro la città tra l'altro hanno pure individuato dei vigili urbani appunto prendendosela contro i vigili urbani in realtà ho fatto capire, ho cercato di far capire loro che in realtà la città è contro queste ombrelle e che l'unico responsabile di questo scempio è il sindaco che è il suo assessore Catania io cos'è che dico? io per carità si dovrebbe parlare di tutto tranne che di ombrellini ci sono tantissimi problemi da risolvere e non si può perdere tempo a parlare di ombrelli però questa amministrazione comunale ci costringe ancora a parlare di ombrelli perché basterebbe fare un passo indietro e chiedere scusa alla città e togliere questo pericolo perché non si parla più di ombrelli se sono belli o sono brutti c'è un pericolo che ingombe sulla città e sui cittadini è il dovere del sindaco togliere un pericolo altrimenti rischia anche di commettere un reato non solo, vorrei anche sottolineare che questo sindaco e questa amministrazione che ha l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini la mette in pericolo con gli ombrelli con i cani randaggi perché sono notizie di quasi tutti i giorni c'è gente che va a finire in ospedale perché i cani randaggi aggrediscono appunto i cittadini e anche con i sensi di marcia c'è stato un cambiamento, il repentino dei sensi di marcia anche in quel caso tantissimi incidenti stradali ancora una volta a mettere in rischio l'incomunità dei cittadini io non ho mai visto un sindaco che invece di tutelare la salute dei cittadini la mette in pericolo Consigliere, ieri quindi tanta paura e soprattutto la paura di altri cittadini, di altri passanti che temono che possa ripetersi Sì, tra l'altro tutti i passanti che hanno fatto poi comunella attorno appunto a quanto accaduto mi chiedevano proprio quello cioè mi chiedevano di intervenire sul sindaco per farli eliminare, per farli rimuovere tra l'altro più volte sono cadute ombrelli che per fortuna sono finiti addosso alle macchine però cosa stiamo aspettando ancora? Io do al primo cittadino 5 giorni di tempo a partire da oggi per togliere questa ombrella quindi poi farò un esposto per omissione di altri uffici perché non si può ancora aspettare che accada veramente l'irreparabile Una polemica, quella sugli ombrelli decorativi a Gela dicevamo, nata già subito dopo la loro installazione il vento di quei giorni aveva procurato i primi danni evidenti Facciamo un passo indietro vi riproponiamo un nostro servizio firmato da Franco Gallo il 3 agosto scorso Vediamo L'estate degli ombrellini della discordia La stagione calda del 2016 rischia di passare alla storia di Gela come quella che ha diviso la città tra i pro e i contro l'idea di abbellire il centro storico con la posa degli ombrellini colorati Per carità, idea scopiazzata da altri comuni ma che un fondamento di estetica gradevole l'avrebbe persino potuta avere se non che, in questa città una cosa, che sia una, fatta veramente bene non si riesce proprio a partorirla Intanto, non serviva certo un provetto colonnello Bernacca per scoprire che dall'indomani della posa degli ombrellini erano previsti tre giorni di vento forte sulla città del Golfo sarebbe persino bastato consultare i tanti siti specializzati di meteorologia per sapere che Gela stava per essere interessata da folate di vento di ponente che avrebbero interessato per diversi giorni il nostro territorio ed invece la sera prima montati e già l'indomani gli ombrellini erano ad inseguire il vento più che a coprire le teste dei gelesi che passeggiavano sul corso principale Non solo, ma poi è esplosa anche la polemica politica sul costo dell'iniziativa con l'assessore al ramo Eugenio Catania che sul tema non è che sia stato così esaustivo fatto sta che ancora ieri sera in Consiglio Comunale ha tenuto banco la storia degli ombrellini e quanto siano costati si dice 9.000 euro e se così fosse chiediamo ufficialmente all'Aggiunta Comunale di sospendere immediatamente l'eventuale pagamento di questo servizio e per un motivo molto semplice grave inadempimento del servizio prestato su via che gli ombrellini siano di scadentissima qualità se ne accorge anche un bambino che siano stati montati a sesso maschile di cane pure ora si può comprendere che a portarseli via e a renderli un obbrobrio sia stato il vento forte dell'estate gelese ma che anche durante i giorni di calma piatta sti ombrellini sono alcuni chiusi altri impiccati e altri ancora sgangherati beh, questo non è assolutamente accettabile è allora che si sospenda il pagamento alla ditta a cui è stato appaltato il servizio a proposito di questa ditta pare che l'assessore Catania abbia affidato l'incarico ad un'associazione che con la passata amministrazione comunale andava letteralmente a nozze ed anche a chi accusa questa amministrazione di perfetta continuità con il passato e cioè con i precedenti governatori della città la vicenda degli ombrellini non ha certo aiutato a sfatare questa diceria Abbiamo raggiunto l'assessore competente al RAM Eugenio Catania l'amministrazione porge le sue scuse alla donna colpita dall'ombrello precipitato dal filo che lo reggeva sentiamo Beh, è una scelta che viene da una decisione del Consiglio Comunale da una condivisione con i commercianti i cittadini erano contenti di questi ombrelli fino a quando li vedevano nelle altre città quando li abbiamo installati nella nostra città invece sono partite direttamente le critiche critiche che possono essere anche strumentali alcune volte, alcune volte insomma hanno un fondamento di verità Noi abbiamo dato, come assessorato sport e turismo abbiamo ricevuto una proposta da parte di un'associazione subito dopo che ci fu la delibera di Consiglio Comunale per l'installazione degli ombrelli sospesi come è stato fatto in altre città l'associazione ha dato l'ingarico ad una ditta ad un'azienda che è rinomata negli anni per l'installazione di addobbi floreali e non solo in centri commerciali, in luoghi aperti e questa azienda ha realizzato una grande installazione artistica che è di circa un chilometro su tutto il centro storico ovviamente in tutti i paesi in cui si è realizzata questa installazione capitano dei problemi solo a Gela è successo che la critica è stata talmente feroce sugli ombrelli io mi ricordo su Ferrara che gli ombrelli caddero a causa di una forte volata di vento quest'anno la stagione è stata particolarmente vendosa mi dispiace dell'evento che è capitato ieri alla signora sulla caduta di questo ombrello mi adopererò per sentirla al più presto oltre che la manutenzione insomma dell'installazione che verrà fatta prima della rimozione perché per il periodo della festa della Madonna bisognerà montare le luminarie e quindi l'installazione sarà portata via io contatterò la turista per assicurarmi del danno subito da parte di questo evento accidentale che è capitato ieri sera mi fa piacere che i turisti vengono in città ma mi dispiace che abbiano queste disavventure nella nostra città l'obiettivo è quello di migliorare la nostra città e non sicuramente quella di causare danni a nessuno nuova improvvisa rottura all'acquedotto blu fino alla serata di ieri blocco totale della distribuzione idrica e serbatoi di Caposoprano e Montelungo oltre che al comune di Niscemi in carcere alle utenze di De Susino Tenutelle e zona industriale di Butere i lavori sono stati ultimati questa mattina e dentro le 18 di oggi Spina Santa tornerà ad essere alimentato l'acquedotto sarà ripristinato il programma comunicato da Sicilia Acqua e il seguente Gela Caposoprano e Montelungo ripristino entro le 20 del 24 agosto Niscemi entro le 19 di domani mercoledì 24 agosto De Susino, Tenutelle e Asi Butera entro la mezzanotte di domani Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016 lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali Licia Abela la domanda di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata appena di esclusione entro il prossimo 30 settembre ed esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente dallo studente al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore ma anche lo stesso studente se maggiorenne appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE non superiore a 10.632,94 i moduli di domanda andranno ritirati nella scuola frequentata dallo studente oppure scaricati dal sito internet del comune di Gela Sarà presentato domani alle 21.30 al club Vela di Gela il libro Social Gossip scritto da Francesco Pira e Antonella Cava ad aprire i lavori sarà nel presidente del club Luigi Nastasi e il vicepresidente e responsabile delle attività culturali Sergio Antonuccio coordinerà il dirigente scolastico Agata Guelli interverrà Rita Salvo docente di letteratura del liceo Eschile presidente della FIDAPA l'evento è organizzato in collaborazione con la libreria di Felicia Randazzo di Via Parioli Fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi martedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati conferire giornali quotidiane riviste libri e quaderni privati da altri materiali fotocopie e fogli usati imballaggi in cartone cartoni per pizza solo se puliti contenitori in tetrapack vuoti privati dei tappi lavati e scolati scatole per alimenti e nonna buste sacchetti zucchero e farina scioper in carta tovaglie in carta non unte depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fonde di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recesi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto ben tornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale al via da domani a Gela la rassegna fa jazz abbiamo incontrato il direttore artistico Francesco Castellana Francesco Castellana torna a Gela fa jazz una rassegna musicale questa volta tutta al femminile sì quest'anno il tema è predominante quindi il denominatore comune della rassegna fa jazz è proprio le donne del jazz infatti la rassegna è intitolata The Lady Is The Trump per fare riferimento e prende spunto da un famoso brano che è di jazz del 1939 interpretato da diversi jazzisti da diversi cantanti del jazz come Frank Sinatra fino ad arrivare a Tony Bennett con Lady Gaga quindi in realtà il tema principale che è stato scelto è proprio quello delle donne che è un tema esaltato in tutti i circuiti in tutti i festival internazionali di jazz e anche noi quindi in linea con questo tema abbiamo deciso di affidare il cartellone della rassegna a tutte le donne del jazz insomma quando si comincerà e come saranno articolate le serate dove i cittadini potranno venirvi ad ascoltare allora la rassegna intanto si sviluppa come location a Macchitella sotto i portici e da questo punto di vista ne approfitto specificando e ringraziando il finanziatore della rassegna stessa medesima che è il signor Francesco Cassarino che è titolare della pasticceria Peccato di Gola che ha espresso ha manifestato una sensibilità oltremisura finanziando totalmente la rassegna in questo ho trovato ovviamente riscontro nella mia azione di organizzatore e quindi in una settimana abbiamo messo sul cartellone ovviamente tutta la rassegna è gratuita nel senso che chiunque potrà venire potrà anche insomma prenotare i tavolini i tavoli del bar e quindi ascoltare questa buona musica e quando si comincerà gli appuntamenti se vuoi ricordare allora sì si comincia domani il 24 la rassegna è costituita da 5 appuntamenti cadenzati ogni settimana ogni mercoledì quindi cominciamo domani che è il 24 quindi poi avremo il 31 il 7 il 14 e il 21 settembre domani cominciamo con una cantante jazz strepitosa originale di Palermo ma che ormai vive da anni a New York assolutamente inserita in tutti i circuiti new yorkesi ma americani del centro America molto importanti in termini di festival o di concorsi canori jazz e avremo questa splendida cantante che appunto si chiama Laura Campisi poi continueremo con Anna Salsetta continueremo con Anna Bonomolo con un'altra gelese che è Glenda Scolaro e finiremo poi con Evelyn Leone 5 appuntamenti allo stesso orario ogni mercoledì alle 21 ore 21 sì saremo lì aspetteremo tutta tutta la città insomma in modo da poterci confrontare e allietare insomma con una buona musica ultimo appuntamento nell'ex monastero delle Benedettine con l'iniziativa l'estate gelese con la musica colta promossa dall'associazione amici della musica Giuseppe Navarra in collaborazione col comune domenica 28 agosto prossima alle 21.15 concerto jazz del trio Alessandro Locchiano alla tromba Nuccia Scerra al pianoforte ed Emanuele Smecca alla chitarra lo avevano dichiarato più di dieci giorni fa che a stretto giro di posta le strisce pedonali sarebbero state ridipinte almeno nei punti nevralgici della città ma fino a stamane niente tornato dalle ferie il comandante dei vigili urbani Diego Goperuga provvederà entro domani mattina a dare mandato ai tre operai reperiti tra i lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento che da domani si metteranno all'opera infatti pare che numerose siano state le difficoltà per trovare personale che fosse idoneo al lavoro previsto una lunga riunione tra l'assessore Arramo Felice Dierna e il comandante l'assessore ha sollecitato i tempi e nonostante ciò ancora nulla il dato è che il comune non ha più dipendenti operai la squadra non è stata ricomposta dopo che numerosi che la formavano sono andati in pensione e dunque se ne crea una nuova di volta in volta per il singolo obiettivo questa volta sarà composta da tre lavoratori ex RMI la priorità di tinteggiatura saranno le scuole che tra 20 giorni ricominceranno in piena attività e dunque buonsenso vorrebbe che si partisse adesso con rifacimento per evitare spiacevoli ingorghi durante i primi giorni di ripresa dell'anno scolastico ma numerosi altri sono i luoghi che necessitano il codice infatti della strada prevede che vengano apposto in tutte le strade ad alta densità di traffico c'è un consigliere comunale che le chiede in via GB dei Cosmi da anni ma questa è un'altra storia sarebbero opportune anche allo svincolo dell'entrata di Caltanissetta i cittadini hanno delle aspettative di ordine e rigori di chiadezza ed efficienza che se vengono dichiarate poi devono essere attuate si terrà domenica 28 agosto prossimo alle 21 alla rotonda est di Macchitella Gela il premio nazionale riservato ai cantanti e le onore a lavore l'iniziativa è dell'associazione Le Vision con il patrocinio della regione e del comune un evento unico in Sicilia orchestra dal vivo ospiti nazionali 20 voci scelte in tutta Italia la manifestazione sarà condotta da Pamela Olivieri e Angelo Martini siamo al teatro Natale al Basilico la rappresentazione teatrale che sarà portata in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela oggi alle 21.30 nell'ambito della rassegna Teatro Sotto le Stelle appuntamento all'arena all'aperto dell'antidoto a Macchitella il costo del biglietto lo ricordiamo è di 5 euro a coppia è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti